Scassinati i parcometri dell'ex Campolandolfi al parcheggio del centro storico nella città di Agropoli, il furto al parcheggio del castello è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato intorno alle 14, mentre quello messo a segno all'ex Campolandolfi è stato effettuato nella notte tra sabato e domenica dai gnoti, ad accorgersi dell'accaduto agli ausiliari del traffico durante il giro di controllo ai parcheggi della città. Fortunatamente sono riusciti a portare via una piccola somma presente all'interno della macchina, ma il danno più grande è stato a carico dei parcometri. Il furto sembrerebbe essere stato effettuato da mani esperte, almeno per quanto riguarda il parcometro al parcheggio del castello. I ladri sapevano quali pezzi scassinare per aprire la macchina e rubare in poco tempo la rifurtiva. È da tempo che la città di Agropoli è ostaggio di furti e soprattutto al parcheggio dell'ex Campo Sportivo. Situazioni del genere non sono una novità, anzi sono quasi scene quotidiane. Auto scassinate, soggetti ben noti in città che chiedono denaro e che importunano bambini e cittadini. Il parcheggio dell'Andolfi è noto per queste problematiche ed ora anche furti ai parcometri. Questa volta però sembra che le videocamere di sorveglianza potrebbero far chiarezza sul furto al parcometro dell'ex Campo Sportivo. Infatti le immagini di due videocamere, una del comune ed una di un'attività commerciale, sono al vaglio sia dei vigili urbani che dei carabinieri e si spera che grazie a queste immagini si possa risalire al colpevole di un ennesimo furto nella città di Agropoli.